Della vetrana calcistica degli ultimi decenni non c'era alcuna traccia. Ci ha pensato Pietro Capogrosso, appassionato di calcio e attento osservatore della storia delle squadre locali, a dedicare un volume alle origini dello sport avetranese sin dai primissimi anni venti, quando ancora Torre Colimena, con la sua importantissima salina, era presidiata da un congruo numero di giovani della regia guardia di finanza che funsero da collante tra i rampolli della borghesia locale e i giovani avetranesi nella pratica dello sport. Grazie a scrupolose ricerche e a testimonianze che è stato ancora possibile raccogliere, Capogrosso ha tolto dall'oblio i pionieri del calcio avetranese, Giocondo Scarciglia, Carmelo e Nino Pignatelli, Giuseppe Nigro. Il libro A vetrana al calcio d'inizio, grazie alla collaborazione di Biagio Saracino, è stato impreziosito di foto dell'epoca, vere e proprie rarità. L'autore è convinto oggi che la crescita e l'affermazione del calcio bianco-rosso si debba molto a Carmelo Pignatelli, che in tempi di povertà e privazioni seppe con discrezione e disinteresse finanziare il calcio avetranese, mettendo a disposizione risorse personali. La prematura scomparsa del presidente Pignatelli penalizzò molto la squadra, allora nel massimo splendore, che domenicalmente si scontrava con società calcistiche più blasonate, che potevano contare su risorse economiche adeguate. Nel suo scritto Capogrosso è riuscito a dare il giusto rilievo a Carmelo Pignatelli, che tanto ha dato al calcio locale negli anni 40 e 50. Non so se sei più famoso per aver scritto tanti libri di calcio o per la politica o per qualcos'altro, Pietro. No, io ho avuto sempre due grandi passioni che sono andate avanti di pari passo, la politica da una parte e il calcio dall'altra. Cerco e sto cercando ancora oggi di portare avanti queste due mie grandi passioni. Il libro, per esempio, che stiamo presentando questa sera è un libro che ha comportato un grande lavoro di ricerca, perché stiamo parlando di Avetrana, non di Milano, di Torino, di Genova, di Avetrana, un piccolo paese dove io faccio partire la sua storia calcistica, grazie alle mie ricerche, dal 1919 e si ferma poi perché nel 57 muore il presidente Carmelo Pignatelli, il calcio ad Avetrana si ferma per 6-7 anni. Però, ripeto, il libro è stato possibile perché ho passato giornate intere, archivio di Stato, emeroteca, prefettura, archivio della federazione calcio a Bari. Il rammarico è che se non ci fosse, per esempio, la mia passione a Manduria come ad Avetrana, tutte queste nozioni, tutta questa storia che è importante per un popolo, andrebbe persa. Io, infatti, questa sera, questo ho detto, se non ci fosse stata, come dire, la mia briga, la mia passione, il mio intervento, questo pezzo di storia, di memoria vetranese sarebbe andato perso. Quindi onore sicuramente a Pietro Capogrosso per aver fatto questa scelta. Tra l'altro, la Avetrana, nella serie in cui gioca, promozione Girone B, è in testa. E io mi auguro, come appassionato, come competente, come tecnico, come esperto, che Avetrana possa continuare questa sua scesa. Fa sempre piacere sapere che ci sono realtà come Avetrana che riescono a mettersi in evidenza, anche se c'è un... voglio dire, oggi il calcio è costoso, oggi fare calcio, fare pallone costa tantissimo e si rischia sempre in prima persona quando si prendono determinate scelte. Carmelo Pignatelli era suo nonno? No, mio zio. Ah, lo zio. Lo zio di mio padre. E quindi è stato un perno del calcio Avetrana? Sinceramente ne ho dei ricordi molto nebulosi, perché lui morì quando io avevo tre o quattro anni, improvvisamente. Però, da quanto mi ricordano gli amici, i parenti e anche il popolo che lo amava, proprio per questa sua dedizione allo sport, che ha sostenuto in tutti i modi e non solo, diciamo che poi la famiglia ne ha conservato un ricordo importante. E' importante il calcio oggi ad Avetrana, perché insomma c'è una bella squadra. Sì, devo dire che il Presidente si è dato molto da fare e quindi la squadra sta un po' raccogliendo i frutti di quanto è stato seminato. Io mi impegno a portare in consiglio anche qualche piccolo contributo da dare, perché è giusto che laddove ci sia tanta passione e che coinvolge anche i cittadini e il popolo tutto di Avetrana, è giusto sostenere queste cose. Il contributo di questo libro invece è sicuramente importante anche. Beh sì, è importante perché diciamo che apre degli orizzonti storici che sinceramente noi non abbiamo conosciuto per l'età che teniamo, ma chi è più grande di noi ha vissuto. Erano tempi molto molto particolari perché si usciva da una guerra devastante. Il calcio diciamo che è stato uno dei volani che ha permesso poi alle società di cominciare a crescere, di essere apprezzate dalla comunità e fino ad arrivare poi a un certo livello. Oggi è cambiato tutto come ben sappiamo. Questo può essere un piccolo regalo appunto per questa squadra che si sta ben distinguendo in questo campionato? Ma infatti casca proprio il momento giusto questo libro, il libro che racconta la storia del calcio avetranese, quindi la storia passata, quando oggi stiamo scrivendo una nuova storia. Avetrana per la prima volta sta disputando in questi ultimi tre anni dei campionati di promozione regionale, mai successo da Avetrana e non solo, sta primeggiando. Quindi è stata dichiarata campionata in inverno perché è prima in classifica da sola. Ha conquistato la qualificazione all'esempio finale della Coppa Italia. La società ha fatto comunque un mercato di giocatori in questo inneso qui a dicembre, eccezionale, quindi perché punta all'eccellenza. Stiamo vivendo una storia bellissima del calcio avetranese, non stiamo impegnando e per questo, io ho già detto prima durante il mio intervento in sala, noi cambieremo anche il nome del campo sportivo. Dal 53, che è intitolato a Valentino Mazzola in onore del grande Valentino Mazzola del grande Torino, quindi onore a lui per carta di Dio, però noi abbiamo deciso di intitolarlo a un grande avetranese che ha dato tantissimo al calcio avetranese. Celestino Laserra, detto Tino Laserra, tutti noi da ragazzini siamo cresciuti sotto la sua dirigenza, e per tantissimi anni ha portato lui avanti il calcio. Quando c'erano i problemi, che non c'erano soldi, li metteva lui da tasca, c'è una grande storia alle spalle. Per Valentino Mazzola comunque lasceremo la porta storica d'ingresso, si chiamerà Porta Mazzola, mentre la tribuna, su mia richiesta, abbiamo deciso di intitolarla Tribuna Angeli, in onore a tutti i giovani che sono morti qui a Teletrana, tutti i giovani deceduti. Grazie.